Sembrerà strano ma non lo è. Forse perché è una notizia di quelle che non fanno notizia. Gli omicidi degli anziani. A parlare però sono i dati. Si tratta di una categoria troppo spesso in difesa. Secondo il rapporto EURES 2013, negli ultimi 5 anni in Italia sono stati uccisi 444 over 65. In media fanno 89 all'anno. La maggior parte, poco più del 22%, sono stati uccisi durante un furto o una rapina, con un incremento soprattutto nell'ultimo anno. Non a caso, le ore più a rischio rimangono quelle serali e notturne. Il 65% delle vittime è stato ucciso tra le 18 e le 6 del mattino. I più a rischio, ovviamente, sono quegli anziani che vivono da soli. Non a caso, si tratta del 70% delle vittime. Anche in famiglia, però, le cose non vanno bene. Oltre 8 anziani su 10, secondo i dati EURES, sono stati uccisi in famiglia. Più rari, invece, i casi di omicidio in ambito lavorativo, tra vicini e da parte della criminalità organizzata. Grazie. Zata.